Una tappa adatta sicuramente, spero di aver recuperato un po' la condizione fisica giusta perché ho avuto qualche problema ultimamente, però sicuramente proverò a far bene. Sì, è un bel percorso, una bella gara, tanti grandi campioni che partecipano, per noi sarebbe bello far bene come squadra, è importante la Coppa Italia e quindi proveremo a dare il massimo.